Ehm, ciao! Ehm, stai zitto, sto parlando io! Ma stavo parlando prima io a dire il vero! Ciao, ma la mia voce più bella! Vabbè, no, oggi siamo tornati in un nuovissimo video di questa bellissima gara di scavo con questi bellissimi minerali che mi sono divertito a disegnargli le facce. Abbiamo questo che... Ma come si chiama lui? Non lo so, poi vediamo. Lui si chiama Angelo. Non dobbiamo perdere tempo. Guarda che bel piccone. L'avevi già visto, forse l'avevo già usato in una sfida con te. E questo piccone, però... È quello che... È quello che fa cose strane, che... Sì, sì, più o meno, sì. Ma è anche stupido. Ma ovviamente, sì. Allora, direi di iniziare subito, Alexa. Imposto al timer di 13 minuti. 13 minuti? A partire da ora. Allora, dicevi, perché prima del video dovete sapere che Loco è un esperto di, ehm, agrario di coltivazioni, perché comunque... Voto per tre anni! L'ha studiato a scuola per tre anni. Poi sei andato, poi ha cambiato scuola, sì. Però hai detto che hai riconosciuto questi minerali, minerali, e gli hai dato un nome in base a come gli ispiravano. Tipo questa carota, com'è? Che si chiamava? Angelo. Angelo, ok. Poi ci sono gli altri che... Ma ci sono solo carote. Gli altri come si chiamano, invece? Non mi ricordo più. Ma ho capito, ma dovevi disegnare in un foglio. Le patate! Mr. Potato, guarda che carina che ha la skin di Mr. Potato. Lascia, mister, è il mio Mr. Potato. Ma non ero un tre per tre, sto martello, una volta? Non so di cosa tu stai parlando. Comunque, Mr. Potato, sembra quasi quello di Toy Story, vero? Aveva un Mr. Potato Toy Story, vero? O mi sto sognando qualcosa? Sì, 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 ce la c'era. Sembra tipo questo, un po'. Sì, ragazzi. Ma hai rubato una patata! Vai! Comunque, purtroppo queste frutte e verdure non si possono mangiare, perché non sono commestibili come vedi. È perché hanno una vita, se tu li vedi, Mr. Potato... Ma la pera è morta. La pera è morta, la pera è morta, ed è anche la più rara, tra l'altro, la pera da trovare. Poi abbiamo... La pera si chiama, aspetta, è... Ignazio, tipo, ha dato un nome molto strambo, molto particolarmente strambo. Sì, allora... Ah, l'ho chiamato Nico, 2005! No, non è vero, non è vero, smettila. Perché volevo che fosse morto. Ma perché devi essere così cattivo con me? Cosa ti ho fatto di preciso per dire queste cose? Ti ricordi l'ultimo video che abbiamo registrato? Ehm... No? Cos'era, un dropper? Lo con Marci. Ah, sì, penso sia già uscito il video della Bedros di Marci, sì. E... No, io non ho fatto nulla, in realtà. Io ti ho bannato soltanto tre volte. Ah, avevo ci stato cinque minuti fa. Mi ricordo molto bene. Ho capito. Bravo, però nel senso, io non ho fatto nulla, t'ho bannato soltanto tre volte. E poi, comunque, parliamo di questa cosa. Come si usa la hack di oggi? Non te lo dico. Parliamo di questa cosa, perché io ti banno soltanto quando tu devi essere bannato, quando tu citti. Perché se non citti, io non ti banno. Io sono una persona che gioca legit. Ah, quindi tu dovresti auto-cheatarti? Auto-cheatarmi? Auto-cheatarmi. Sì, dovrei auto-cheatarmi. Puoi smettere di seguirmi, tanto finché mi segui non uso nessun potere. Ah! No, no. Dai, guarda, posso andare anche nella lava. Ormai ho resistance, non ti preoccupare. Potere, quindi si è pregato di andartene via. E ho appena distrutto due pere all'interno della lava. Molto. Pera. Ah! Brucia la lava, vero? È molto scottante. Mi puoi dare... Give. Give Nico Water Bucket. Benissimo, tp. Loco, vorrei tornare alla mia miniera, se non ti dispiace. Grazie. Dov'era la miniera mia? Dov'era la mia miniera? Ragazzi, ovviamente si barra anche quest'oggi. Come vedete nel mio inventario, delle bellissime bussole che mi indicano dove sono i minerali. Adesso devo capire come funzionano, perché credo siano un po' rotte. Però, secondo me funzionano. Cioè, nel senso, secondo me, se tu ti impegni, riesci a funzionare. Vorrei tanto ascoltare cosa tu dici mentre ti muti. Beh, lo puoi sentire, effettivamente, se ti guardi il video, se ti teletrasporti in un universo parallelo, alternativo al nostro. Non ti apre la porta, se dovessi venire a casa mia, sappilo, perché io non voglio estranei a casa mia. Ah, ho capito. Quindi, in sostanza, ok. In quel caso, allora, potrei aprirti. No, in quel caso potrei aprirti. Perché, effettivamente, a parte che i miei, inizialmente, conoscevano Marci come quello degli Anacardi. Perché non so se ti ricordi, ma durante il primo lockdown, Marci mi aveva comprato gli Anacardi. Ehi. E quando erano arrivati, i miei fanno, ma di chi sono io? Eh, di Marci. E loro, Marci? Quindi, per tipo, i tre mesi successivi, Marci è stato quello degli Anacardi. Sai come ti chiamo mia mamma, invece? Non voglio saperlo, mi sa. Non si può dire in questo video. Ecco, lo sapevo. Ma perché? Cosa ho fatto a tua mamma? Ti ho comprato un figlio. Ma non è un insulto. Ah, no? Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Mi chiama. Adesso ti assumi la responsabilità di dirlo, in un modo gentile del video. Adesso ti assumi la responsabilità di dirlo. Tu sei una persona molto... No, mo lo dici, mo devi avere il coraggio di dirlo. Io non lo dico, Marci. Eh, perché non lo dici? Ma che ti bannano il video. No, non mi bannano il video. Loco mi critica. Vi dico soltanto che mi critica, ragazzi. Davvero una persona terribile. Io non ti critico. Io non critico insieme. No, mi critichi. Vogliamo... Io non giudico le persone. Io giudico le azioni delle persone. E cosa giudicheresti di me? Oh, hai lasciato una... Cos'era? Qualcosa a terra. E comunque, credo che quello che... Ah, che funziona. Quindi da questa parte, teoricamente, se scavo... Dovrei... Ah, ok. No, niente. Ah, l'X-Ray, ottimo. No, no, l'X-Ray, perfetto. No, no, l'X-Ray l'ho usato lo scorso video, Loco. L'ho usato lo scorso video, Loco. Ma è vero. Non è che la uso di nuovo. Allora, come fai a vedere i diamanti? Hai qualcosa che si illumina, qualche oggetto particolare? Oh, il fiuto. Oh, il fiuto sono un bel cagnolo ben addestrato. Vediamo in creativa se ci sono qualche oggetto. In creativa non c'è niente, in creativa non trovi un bel niente. Metal Finder, Maneral Finder, Gem Finder. Cosa stai dicendo? Non so di cosa ti stai parlando. Ho trovato quello con cui citi. Guarda che non sto usando... Loco... Metal Finder. Loco, cos'hai aggiunto nel server per citare? Metal Finder. No, non è vero. Come si... Come... Non è vero. Non è vero, non è vero. Non l'ho messo io. Quale uso il Gem Finder? Non te lo dico. Allora, andiamo a scavare, eh? Che dici? È molto bello scavare davvero... E' emozionante. E' emozionante. Tanto non sai come funzionano. Non sai come funzionano. Infatti non funzionano. Mi dispiace. Devi prenderli in mano e cliccare il tasto destro. Praticamente tu succede una cosa magnifica. No, spariscono dal... Spariscono. Se ne vanno. No, no, no. No, no, no. Non è che spariscono. T'ho cliccato io l'inventario prima. Ti vanno in testa se ci clicchi. Hai fame! Vanno in testa se ci clicchi. In testa praticamente succede. Qualcosa che praticamente ti fa vedere... Ti fa vedere. In realtà non è vero. Non vedi gemme? Come fai a non vedere gemme? Ho gemme, ma non le vedo. Vedo te. Ma è possibile che non riesci a citare neanche quando trovi l'hack? Aspetta, guarda su per te, guarda su per te. Allora, sto arrivando. Oh, lo vedi in testa? Bravo. Guarda, scusa. Lo metti in testa. Non funziona? Eh, guarda di qua. Guarda. Guarda, qua c'è... Aspetta, 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 aspetta. Aspetta che mi sono bloccato. Guarda, aspetta un momento. Guarda qui dritto che cosa c'è. Guarda qui dritto cosa c'è. Guarda. Forse è solo. Non ce sto a capire niente. Un attimo. Se sei impallato, mi hai fatto impallare tutto. Guarda, guarda, guarda. Ti spiego. Praticamente tu ora che ce l'hai in testa, se scavi qua... Guarda qua. Guarda qui. Guarda qui cosa c'è. Guarda qui cosa c'è. Look at this. Look at this. Look at... Dai che li voglio prendere questi diamantini. Guarda che belli. Guarda che belli come funziona bene Vernico. E loco non capisce come funziona. E lo ho in testa. Eh, devi metterlo in testa e poi... E poi... E poi devi seguirlo come se fosse una bussola. E poi... E poi niente, ti ho detto cosa devi fare. Forse mi sono mutato quando l'ho detto. Cavolo. Ho inciampato sul tasto per mutarmi. Sì. Cerchiamo i comandi, perfetto. Cerca... Cerchiamo i comandi. Benvenuti. Non c'è nessun comando. Non c'è nessun comando. Cerca i comandi con loco. Hai un piccone particolare. Dal mio piccone. Vuoi scambiarci il piccone? No, non ci scambiamo il piccone. Dal diamond pickaxe. Sì, quello è un piccone di diamante normale. Che ho usato una volta per trollare Marci. Se vuoi prendilo in mano. Usalo pure. Ah, è piccone che non dà blocchi. No, quello è un piccone normalissimo. No, non dà blocchi. Allora non mi ricordo cos'era. Comunque, allora... Qui non c'è nulla. Andiamo da questa parte. Perché io voglio assolutamente trovare di diamanti. Ma tu pensi di battermi anche se stai citando? Tu ti stai mettendo di continuo in creativa. Quindi io mi immagino soltanto cosa tu fai in questi momenti. No, Nico. Puoi guardare... Se vuoi ti passo tutto e ti faccio skin del mio interno non ho nulla. Va bene, basta che alla fine non ti sdoppi le cose. Perché ultimamente sai che... Mi stai un po' puzzando che anche nelle gare di scavo citti sinceramente. Devo ancora analizzare bene le mie teorie. Ma prima o poi... Però perché ti batto? Prima o poi te... Tu... In ogni singolo video. Se io... E non sei in grado di farlo e ti batto lo stesso. Se io ho le acte. Stai schifo, vergognati. Puoi battermi teoricamente. E qua? Oh, ecco lì. No, tu sei scarso, non sei capace. Quanti diamanti hai? 19. 19. Tu quanti ne hai? Tu quanti ne hai? 12. Sì, dai. Va bene, sì. Lo dicevo anche io da piccolo. Ho trovato 12 diamanti. Quando vi prendi delle creative è facile dirlo. E quando non hai mai citato un mio mondo al contrario di te. Non hai mai citato in un tuo mondo. Ho trovato Sara. Chi è Sara? La fragola. Ah, ok. Io ne ho... Dove sono le... Ma ne ho un sacco di fragole. Vabbè, rinunciaci. Prendi qualcos'altro, te lo dico. Ah, 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 ah. Cos'è che ne hai di più? 15 diamanti. 15... Oh, perché trovi più diamanti di me? Com'è possibile? Dai, però. Cioè, nel senso... Perché io scavo? Non vado in giro a cercare un blocco alla volta. Anche io sto scavando dritto per dritto. Ma il fatto è che a parte qua ci sono delle pere. A parte che il... Cosa stavo dicendo? Oh, qua. Ok, niente. 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 Non potrai mai battermi in vita tua, Nico. Le pere. Mi devi dare la giraffa. Mi devi dare con la cavo di giraffa. Le pere. Le mele. Altri diamanti. E poi ancora le pere. Le patate. Io vedo di giraffa, Nico. Non è il momento della giraffa oggi. Basta, no. Voglio, quando facciamo il video della giraffa? E quando vincerai in modo legit senza cittare. Allora, facciamo così. In un video tu dici... In un video tu dici... Nico, oggi competiamo per la giraffa. Io ti deoppo. E se vinci... Facciamo un mini game su... Su un server. Eeeh, dipende. Cos'è non potete citare. Ok. E poi... Non so. Vediamo. Dipende. Dipende. O un'idea migliore in realtà. Un'idea migliore. Ma santa di quella miseria. Ma possibile che non funzioni... Cioè, non è che non funziona. Ma so sfortunato. Perché teoricamente... Facciamo così. Andiamo da loco. Almeno vediamo se c'è qualcosa di più utile qua. Smetti che ho preso di diamanti. Quanti ti manchiai? Oh. Ne hai lasciato uno. Ne hai lasciato uno. No, no, no. Mi sono in base. Me ne vado via. Aspetta un attimo. Ti dico dove l'hai lasciata. Aspetta, c'è una vena nuova qui sopra. Eccoli qua. Eccoli qua. Sì. Sono esattamente qui sopra. Sei andato via davvero? Già, tu non ti voglio con me io. Non vuoi giocare con me? No, ti odio. Cioè, io ho fatto io pensando a te, alla tua scuola... E no. Non ti piace. Non apprezzi mai nulla comunque di quello che faccio. Basta. Sei... Sei uno... Questa cosa che fai fa schifo. Non è che se mi prepari dei dolci... A posto dello zucchero uso il sale... Ti dico se sono buone. Non ti dico che fanno schifo. Un giorno lo devo fare. Un giorno devo spedirti dei biscotti fatti con... Però no, il sale è poco cattivo. E con te io mangio dei biscotti fatti a mano spediti per posta? Perché no? Ma me ne avveleni. Ma non è vero. Dai, ma perché pensi queste cose? Ci metterei della cannella... Ci metterei un po' di... No, mi dissocio. Quindi dissocio completamente da queste informazioni. Non mettete la candeggina nei biscotti perché... Meglio evitare. Vabbè, detto esplicitamente, sì, sì, vuole. Eh, così c'è. Capito, ma dicevo che... Volevo rimanere in un ambito un po' più... Meno mortale. No, sì. E via, e via, c'è così, non è che... Comunque, io ti giuro, non funziona... Cioè, nel senso, funziona, ma non ci sono diamanti. No, è che non funziona. Che tu fai le cose e poi non sei in grado di usarle. Loco, sto coso non lo devi mettere in testa, in realtà. Lo devi usare come se fosse una bussola. Perché ti indica i minerali che hai a fianco. Tipo qua mi dice che c'è dell'app slazzulo, non c'è più, in realtà, dove diamine è finito. Mi dice che ci sono i diamanti. Ma non ci sono diamanti perché non ci sono. Perché sto sfortunato e scavo dove non ci sono i diamanti. È una scusa, l'ho capito. È una scusa perché non trovi niente, sei scarso e hai perso contro di me. Non è detto. Sai che devo dire che ti dona però questa tipo aureola, questo non so che cosa, questo... Sì, questo, esattamente questo qua. Sì, non so se lo conosci. Comunque, andiamo a vedere i punteggi. Chi avrà vinto con questa volta? Il coal abbiamo 1 a 0 per loco. Ah, sotto è loco, sopra sono io. Quindi 1 a 0 per loco. 1 pari per entrambi. 2 a 1 per il signor Nico. 3 a 1 per il signor Nico. 3 a 2 per Nico. 4 a 2 per Nico. 5 a 2 per... 6 a 2 per... 7 a 2 per Nico. 8 a 2 per... 9 a 2 per Nico. Cosa hai da dire questa volta? Che tra l'altro mi avevi anche sgamato il tranello però non ha capito come funzionava. ma purtroppo non è arrivato a capire che era una bellissima bustola la raga per diamanti. E non l'alto. Togli la chat. Perché... Togli la chat. Tranquillo, ora comparo una mia faccia sulla chat che censurerà tutto. Ehm... Vabbè, non... Mi dissocio. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Non fate come loco che scrive cose terribili in chat che è meglio per voi che non le vediate. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Quanto son carino con questa aureola. Noi ci vediamo.